Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo della slitta della SmallRig per la mia Alfa Sony 6400. Come vedete sul tavolo sono presenti diversi prodotti a marchio SmallRig e anche quello di cui parliamo oggi è un prodotto di questo marchio. Infatti anche questo video fa parte della serie di video che stiamo realizzando in collaborazione con SmallRig per farvi vedere i migliori accessori per la vostra fotocamera, il vostro smartphone e la vostra action cam. Il prodotto presente all'interno di questa scatola è un prodotto fondamentale soprattutto se utilizzate lo schermo ribaltabile della vostra Sony Alfa 6400 ma anche di altre macchine con lo schermo ribaltabile nella parte centrale. Andiamo subito ad aprire la confezione e vi faccio vedere che cosa è presente all'interno e come funziona. Mentre vado ad aprire la scatola come al solito vi chiedo di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale. Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire sempre a portare nuovi prodotti e nuovi contenuti come questi. Inoltre iscrivetevi cliccando qua sotto sulla campanella per non perdere tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere e qua sotto in descrizione trovate il link per acquistare questo prodotto ma anche il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Come vedete si tratta di una semplice slitta realizzata in acciaio ben robusto, questa slitta però è fondamentale proprio per andare a evitare il problema con il monitor ribaltabile della Sony Alfa 6400. Infatti quando andiamo a ribaltare il monitor della nostra fotocamera se andiamo a collegare in questa slitta il nostro microfono esterno avremo ovviamente il microfono esattamente davanti al monitor e quindi quando utilizziamo la fotocamera in modalità selfie per andarci a riprendere non riusciremo a vedere quello che stiamo riprendendo. Con questa semplice slitta della small rig andiamo a risolvere semplicemente il problema perché infatti avremo a disposizione non una ma ben due slitte ad attacco rapido che ci permetteranno di andare a collegare un dispositivo qua sul lato quindi completamente fuori dalla portata del nostro monitor e un dispositivo invece sull'altro lato anche in questo caso completamente fuori dal monitor stesso. In questo modo potremo andare a collegare in modo semplice e veloce due dispositivi esterni alla nostra fotocamera che potrebbero essere ad esempio un microfono esterno e un faretto led. Inoltre il grosso vantaggio di questa placchetta è che possiamo andarla a tenere sempre collegata alla nostra macchina il peso è veramente limitato quindi non andrà a influire sul peso della macchina stessa e ci permetterà appunto di avere due attacchi a slitta aggiuntivi e ci permetterà anche di avere due attacchi per la cinghia della nostra fotocamera che non faranno rumore come quelli originali Sony. Quindi per andare a collegare questa placchetta dovremo andare a togliere la cinghia originale Sony in modo tale da andare a lasciare liberi i perni presenti nelle parti esteriore della fotocamera in cui andremo ad avvitare con le viti presenti in confezione e la chiave a brugola che viene fornita la nostra placchetta alla fotocamera. Una volta che abbiamo fissato alla nostra macchina la slitta della small rig avremo appunto a disposizione due attacchi che potremo utilizzare ad esempio con un faretto led su questo lato e volendo ad esempio il microfono classico della rod sull'altro lato. In questo modo avremo tutto collegato alla fotocamera quindi molto comodo da utilizzare per effettuare delle riprese in modo diretto ma soprattutto il grosso vantaggio di questa placchetta della small rig è quello di poter continuare a vedere il monitor senza l'ingombro appunto dei due accessori che rimangono laterali. Inoltre continueremo ad avere accesso anche alla slitta centrale della macchina quindi potremo utilizzare volendo anche un terzo accessorio a slitta qualora ci sia la necessità e rimarranno accessibili anche tutti i tasti e tutti i comandi della nostra macchina fotografica. Si tratta quindi di un accessorio veramente semplicissimo ma perfetto e a mio avviso fondamentale per qualsiasi fotocamera se avete la necessità di collegare dei supporti esterni. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per questo video con la slitta ad attacco rapido della small rig è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da Enrico. Grazie a tutti.